Ciao a tutti, sono Irene di Bimbi Creativi e oggi vi mostro come realizzare questo divertente granchietto utilizzando un tappo. Per vedere come ho realizzato questo granchio guardate il video, se il video vi piace lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi alla mia pagina Facebook e al mio canale YouTube. A presto, ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!